50, tieni subito destra, sinistra 0 100, tieni sinistra, chicane entra a sinistra 1, orco 2 però siamo riusciti a proseguire e arrivare alla fine o po' che c'è 30 destra 0 50 sinistra 3 attenzione 20 le gomme sinistra 2 destra 5 meno in sinistra 3 per destra 3 50 subito sinistra 3 100 tieni sinistra per destra 5 20 20 20 21 22 24 25 28 29 30 30 30 30 27 28 28 28 29 30 stretta, esci sinistra, destra tre meno, in chicane è entrata a sinistra. 200, tieni sinistra, destra due. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Vai, 50, sinistra tre, destra tre, tieni, destra cordolo, in tornante sinistro. Destra due, attenzione che entriamo in pista, eh. 30, destra zero. Destra due, 200, tieni sinistra, chicane è entrata a sinistra. Grazie a tutti. Non sto ideia. ma che questo che ti porta fuori all'uscita chicane è entrata a sinistra riusciamo a destra riusciamo a destra 50 stai destra per sinistra zero 50 stai sinistra ho avuto tante difficoltà a capire la macchina comunque una macchina potente e ti accorgi di chi sono gli avversari tutta gente che tiene giù il piede un ringraziamento speciale va a Piero Longhi per i suoi consigli prima, durante e dopo le prove speciali portiamo a casa un bel ricordo ci vediamo presto